Nel silenzio assordante della politica, degli imprenditori, degli artigiani, dell'associazione di categoria, insomma di tutti, ci sembra doveroso dire noi quello che tutti pensano, ma che a pare nessuno abbia più il coraggio di parlare. Parliamo di GES e di quel convegno voluto dall'amministrazione in accordo con vertici regionali e il commissario stesso delle GES, che al di là delle opinioni, sempre di nomina politica si tratta, è sempre alla politica, deve rispondere. Il convegno svolto sulle zone GES che doveva servire per un non dialogo tra le parti, in realtà si è risolto con una comunicazione su cosa siano le zone economiche speciali, ai vantaggi a essa collegata, come se non lo sapessimo già dal 2020. Nulla è dato sapere su quanti siano gli ettari che aspettano a parte dico. le eventuali zone da individuare e soprattutto i criteri. Insomma, una passerella dove i relatori si sono alternati in monologhi e dove la posizione degli imprenditori si è risolta in un ascolto passivo senza possibilità di intervento alcuno. La verità è che i giochi sono fatti e sono stati fatti in trattative fuori da parte dico e fuori dagli interessi generali del paese, bypassando tutti. In realtà di zone GES se ne parliamo già nel 2020, realizzando qualche intervista ed evidenziando con carte alla mano come rispetto alla deliberazione della regione che assegnava 11 ettari circa a parte dico, il successivo decreto ministeriale del 2020 ne assegnava circa 6. Quindi perdevamo già allora ben 5 ettari ed eravamo sotto la gestione commissariale del colonnello Arena. Aree individuate all'interno della zona artigianale e oggi, come allora, non si riuscì a comprendere il criterio che individuò alcuni lotti anziché altri. Oggi i resti della zona GES della Sicilia non utilizzati verranno di ridistribuiti. In questa ridistribuzione non sappiamo quanti ne spettano a parte dico, dove verranno individuate e soprattutto attraverso quali criteri. Eppure, come è successo già nel 2020 sotto la guida di Rosario Arena, sappiamo per certo che le aree da destinare a ZES sono già state dal comune inviate e scopriremo solo successivamente cosa la struttura regionale approverà o meno. E allora ci piacerebbe capire come mai non si sia deciso di destinare questi ettari in più, che non è dato sapere manco quanto siano, nella zona artigianale ed industriale. Sarebbe la scelta più logica, normale e al di sopra di ogni sospetto ed interesse. E invece pare che si agisca a macchia di leopardo. Un lotto accanto la Masach, un lotto presso il deposito Conad, un lotto nei pressi del mercato ortofrutticolo, una particina nei pressi del mattatoio, uno presso il Borgo Parrini, una parte nella zona artigianale a servizio di Magic, la fabbrica che si occupa di componenti meccaniche o elettroniche che siano, e dove si è consumato qualche incontricino riservato con l'amministrazione, e dove dobbiamo fare la galleria del vento e del provolazzo. Ma almeno questa che ben venga, poiché il polacco quantomeno ha realmente investito e portato sviluppo e occupazione nel nostro territorio. Ma tuttavia dubbi e ombre si celano sui criteri. A oltre che trasparenza e condivisione, un cerchio magico stabilisce il bello e il cattivo tempo, una ristrettissima cerchia di persone pianifica in favore di amici ed amici degli amici. nel silenzio assordante della politica e delle parti sociali, tutte.